Salve a tutti amici, sono Paolo Fiat e oggi siamo qui per vedere questo trattore, vedere tutti i servizi, tutti i comandi che ha, quindi tutte le leve che ha e andare a vedere praticamente e molto semplicemente come è composto le sue leve e le sue cose e farvi vedere un pochettino nei dettagli magari un po' motore, che comunque è un motore bicilindrico, quindi due cilindri giapponese, quindi di casa madre Kubota questo qua è un Kubota, adesso non vedete più le scritte perché comunque non le ho più messe perché tanto non mi interessano è comunque un Kubota B6000 e è un Kubota base, molto molto base, vecchissimo perché comunque ha alle spalle quasi 50 anni se non anche superati e va molto bene per fare tutti i lavori di piccolissima campagna, quindi affiancare un motocoltivatore va benissimo quindi una ratura piccola, piccolo esterpattorino, una piccola frasetta, poi può andare benissimo per un piccolo rimborcarellino da tirare per portare in giro le tame, sassi, legna, quello che volete, può andare benissimo anche con delle forche perché comunque i due quintali suoi li alza benissimo e quindi praticamente con le forche può andare molto bene perché praticamente va a aiutarci a sollevare magari dei piccoli pesi quindi io ho portato dei bidoni pieni di terra, bidoni pieni di acqua che comunque i bidoni quelli grandi pesavano sopra un quintale e devo dire la verità che mi ha molto aiutato e poi soprattutto è molto comodo ovviamente la presa di forza con un trince perché comunque secondo me in campagna il trince è fondamentale e questo trattore qua diciamo con un trince piccolino che sta sui 90-95 cm di lavoro quello che ho io praticamente è ideale e quindi riesce a lavorare molto bene e avere un lavoro buono poi comunque gli attrezzi e quelle cose là ne parleremo più avanti, io adesso vi sto parlando solo del trattore è un trattore molto semplice, elettronica quasi zero, ha pochissima elettronica tranne che la pompa del gasolio o della nafta come volete dirla, elettrica, per il resto non ha nient'altro di elettrico se non il quadro di accensione quindi quel blocchetto con la chiave che dà corrente ai fanali, dà corrente al klaxon e dà corrente anche a, in questo caso io ho fatto l'aggiunta e mi metto un accendio di sigari, secondo domani mi servirà a mettere un piccolo lampeggiante e basta ecco, poi altra cosa che c'è da dirsi, acceleratore classico, acceleratore a mano, non ha l'acceleratore a pedale che comunque sui trattori così piccoli sarebbe bello averlo ma non è essenziale perché comunque sui trattori così piccoli avete marci cortissime, quindi delle marci in cui il trattore avanza veramente lento come lumache quindi una marcia ridottissima che va bene per trinciare grosse quantità di materiale quindi il trattore va piano e la trincia non si ingolfa, stessa cosa con la fresa, marcia lenta la fresa lavorerà meglio perché comunque è rapportato a marcia lenta però giro del motore alti, quindi se noi andiamo a accelerare tutto al massimo anche questo qui arrivi a fare 2.500, 2.600, 2.700 giri, dipende un pochettino come è regolato bene con la prima lentissima, quindi con la prima più lenta che c'è, riuscite ad avere un ottimo rapporto perché comunque uscite del motore alti e marcia lenta, riusciamo a fare delle ottime lavorazioni io l'ho provata con la trincia, adesso la fresa non ho ancora acquistato la fresa cosa da dirsi, il B6000 esce con la perilla di forza reversa ma non c'è problema perché comunque ci sono case produttrici di attrezzi che fanno anche le reverse, magari non proprio case produttrici europee però comunque delle case produttrici diciamo più un po' fuori dall'Europa però si trovano a prezzi e anche a prezzi molto vantaggiosi come il trincia che ho preso io che è reverse l'ho pagato comunque mediamente come un trincia normale a nostro reparto, un trincia base quindi sui 1000, 1000 e 5 così ecco adesso stacco la telecamera da qui, vi porto a vedere proprio nei dettagli tutto prima il cofano ce l'ho con la telecamera in mano riesco, comunque il cofano, tutto la mira comunque questo trattore, il cofano si apre così, ovviamente ho fatto delle modifiche anche io questo trattore qui però non modifiche di motore, ho fatto modifiche tipo l'acceleratore quello l'ho rifatto completamente io, poi ho fatto modifiche sui fari, comunque ho cambiato tutti i fari ho fatto l'impianto elettrico nuovo, ho cambiato diciamo quello che converte la corrente adesso non so come si chiama tecnicamente, però converte la corrente dalla dinamo del trattore a far caricare la batteria, prima non si caricava la batteria, la batteria non si caricava e quindi ho rovinato una batteria, poi mettendo quel pezzettino lì che comunque si trova in giro sono classici pezzi da trattorino tagliaerba perché come motore siamo lì più o meno e l'ho preso quindi adesso la corrente che arriva dalla dinamo carica la batteria e di conseguenza la batteria si viene sempre carica che funziona bene quindi modifica che ho fatto e poi ho messo l'accendiserio come vi stavo dicendo e poi insomma ho cambiato dei fili che magari erano un po' rotti o dei fili che andavano cambiati insomma ho controllato tutto l'impianto e poi non ho fatto grossi lavori se non riverniciare il trattore adesso prendiamo la telecamera in mano se permettete e vi faccio vedere un po' i dettagli se il video esce lungo non importa ma se voi volete guardarlo guardate lo stesso se no guardate solo quello che vi interessa allora partiamo un pochettino da qua motore motore due cilindri come stavo dicendo io guardate qua due cilindri raffreddamento a liquido qui c'è il raffreddatore che è il radiatore scusate non viene mai la parola motorino di avviamento tutto il sistema di avviamento con le puleggie ci sono qui poi qui c'è il filtro dell'aria ottimo questo filtro dell'aria perché a bagno d'olio io sono patito di fietre a bagno d'olio perché secondo me mantengono la vita del motore molto più allunga allungano la vita del motore poi qui c'è un'altra cosa anche molto importante se è freddissimo o se avete la batteria un po' scarica che è questo sistema qui che è l'apri valvole che io non ho mai usato pochissimo per farlo partire serbatoio della nafta o del diesel come volete dirlo con la sua pompa elettronica qui e tutto il sistema di filtraggio ovviamente un filtro molto classico a retina quindi questi filtri qua sono eccezionali perché se un giorno si sporca prendete cambiate andate su qualsiasi rivenditore che vende macchine agricole trovate sicuramente i filtri sono filtri standard poi la batteria che ho messo io la batteria da trattore piccola ma va benissimo per quello che devo fare io il suo polo positivo e il suo polo negativo qui positivo e lì negativo poi qui sotto come impianto è stato messo questo pezzo qua scusate questo pezzo qui che praticamente è quello che prende la corrente dalla dinamo e la trasforma per la batteria poi qui ho messo l'accendo i sigari che è questo pezzettino qui che c'è l'accendo i sigari di là c'è il quadro comandi con tutto quello che serve e poi comunque è finito qua il discorso adesso qui abbiamo il filo dei fanali questo qui il filo dei fanali vediamo se riesco a prevedere un attimo i fanali da qua sotto i fanali li ho messi io con la lampadina led perché i suoi portalampade originali non si trovano e quindi ho dovuto adattare un pochettino il sistema poi passando avanti qui c'è il quadro dei comandi questo qui è il volante con il pomello che ho fatto io questo è il quadro comandi molto semplice molto molto poco elettronica quindi anche per questo mi piace qui c'è un accendisigari che ho messo nuovo vedete non ho mai usato però mi può sempre tornare utile l'ho voluto mettere dato che stavo rifacendo l'impianto questo qui è per accendere i fari vedete il primo scatto è spento il secondo scatto fa i fanali davanti il terzo scatto fa il faro dietro che il faro dietro l'ho messo io vedete ho fatto l'impianto io l'ho messo io questo qui poi un'altra cosa da guardare è il sistema di accensione del trattore che quindi praticamente abbiamo la chiave qui quindi praticamente qui c'è la chiave che si accende poi qui c'è il manetto per fare scusate da questa parte di qua fare il preriscaldamento quindi il riscaldamento delle candelette e poi questo è l'avviamento qui c'è un classico tasso del fanale e basta così è finito passando invece alle parti di funzionamento del trattore qui praticamente c'è il pedale della frizione questo è il pedale della frizione vedete che va a staccare ovviamente frizione che l'ho modificata io qui che ho fatto la nuova barra per spingere per avere una barra un po' più corta quindi che stacca subito il pedale poi andando avanti da quella parte di là che vi faccio vedere subito ora ci sono i due freni che sono o ruota destra e ruota sinistra oppure così come sono attaccati adesso li premette e frenano tutti i due insieme molto molto comodo questa cosa qui poi qui c'è praticamente il volante vi ho già detto e c'è il suo snodo ovviamente meccanico vedete la trasmissione della ruota delle ruote come posso dirvi poi qui praticamente ci sono i comandi un po' più importanti ovviamente il sedile che non è un sedile è niente di che dovrei rifare il foderamento quindi gomma più o mai è una stoffa vedete molto semplice niente di che il suo piccolo ammortizzatore qui molto semplice poi partendo dai comandi c'è presa di forza che è questa qui che ha tre velocità ovviamente io utilizzo sempre la prima velocità per avere più forza sul trincia per macinare quindi prima velocità qui così vedete prima velocità poi c'è la seconda velocità e poi c'è la terza e in mezzo tra una velocità e l'altra c'è ovviamente il folle la presa di forza è sincronizzata con ovviamente il pedale della frizione quindi se voi prendete la frizione si ferma la presa di forza che la presa di forza è questa qui questa qui che è una reverse che è stata praticamente modificata da un'officina è stata fatta ovviamente universale e poi praticamente qui ci sono le marce queste sono e abbiamo tre marce ovviamente lente e tre marce veloci così comporta allora comporta ovviamente guardando qui scusate un attimo comporta prima la retromarcia poi seconda e poi ovviamente ritorniamo poi andiamo sulla terza ok bisogna premere la frizione ma comunque un po' ci siamo capiti noi così poi qui c'è il discorso dell'olio del differenziale vedete l'astina qui dell'olio del differenziale con il suo tappo dell'olio del differenziale poi girando intorno di qua vi faccio vedere ovviamente un'altra cosa vi faccio vedere il sistema di acceleratore che ho fatto io guardate con il cavo d'acciaio cavo d'acciaio e molla e questo è l'acceleratore che ho montato un acceleratore del lama universale che va benissimo per fare questi trattorini qui per fare questi lavori qua va benissimo quindi eccezionale tornando indietro di qua invece che abbiamo visto le marce scusate scusate questo è il 4x4 scusate un attimo che ho sbagliato io in su è disinserito in giù è inserito il 4x4 è un po' duro ma comunque si inserisce funziona veramente bene il 4x4 comunque quando siete in difficoltà a mettere il 4x4 tira che è una meraviglia questo invece è il selettore della veloce e della lenta così in su è lenta in giù così è veloce veloce vuol dire che il trattore è veloce non sto scherzando veloce vuol dire che il trattore va veloce perché comunque spinge come la velocità se poi andate con l'acceleratore a manetta e mettete la terza veloce il trattore corre comunque ecco poi qui c'è il discorso del sollevamento idraulico sollevamento idraulico con la sua pompa viene tutto proporzionato al trattore come stavo dicendo quindi la presa la pompa idraulica che fa alzare il sollevamento qui in questo caso ho installato delle forche che comunque alzano delle forche che comunque porto due quintali con questo trattore qua senza problemi e come vi stavo dicendo vi stavo dicendo l'apeta di forza è molto semplice qui c'è un attacco a castello diciamo un attacco a tre punti di categoria 1 che è molto va bene categoria 1 quindi qua c'è praticamente l'attacco a tre punti classico da trattore tutti i trattori hanno più o meno il stesso attacco che categoria 1 3 4 però devo dire la verità comunque il concetto è più o meno lo stesso quindi occhielli qua per l'aggancio avete degli occhielli per l'aggancio e poi ovviamente i tiranti suoi per mettere in tensione l'attrezzo che l'attrezzo non balli e non faccia così e poi l'acce in fondo abbiamo visto la pera di forza e qui ci sono i due braccetti che tengono in tensione il tutto terzo punto che ho sostituito io non era quello del trattore ho sostituito io questo più lungo perché per trinciare mi serve il più lungo perché sennò il trince sta troppo inclinato in avanti quindi mangio a terra poi altra cosa da dirsi insomma qui non c'è nient'altro non c'è nient'altro da dire se non questo regolatore qui che ci permette di regolare quanto far andare giù l'aratro o quanto c'è l'aratro scusate il sollevamento e quanto far salire il sollevamento comunque vedete funziona così e dopo basta ecco poi il sedile l'abbiamo visto con i suoi agganci poi abbiamo visto tutto il quadro generale il quadro comandi qui c'è un piccolo un piccolo porto un piccolo diciamo ripostiglio per mettere i vari i vari attrezzi che uno vuole mettere anche se non c'è il coperchietto non l'elonia ancora fatto e questo è invece il bloccaggio di differenziale quindi se siete dentro un buco o se siete in un posto di sconnescio con una ruota dentro un buco permette questo e le ruote fanno trazione insieme che è differente al 4x4 il 4x4 potete lasciarlo sempre inserito e lavorare col 4x4 inserito se siete stirpando o arando che vi sia più trazione invece il blocco di differenziali lo permette soltanto quando siete in una buca in difficoltà che dovete riuscire a uscire da quell'impaltanamento possiamo dire così adesso chiudo il cofano comunque l'ho scelto questo trattore per il prezzo suo vantaggioso che aveva di acquisto che era molto molto basso ma soprattutto l'ho scelto perché ha poca elettronica e tanta meccanica di una volta quella meccanica buona quella meccanica che si fa fatica a vedere quella meccanica in cui si runga un pezzettino e si sistema tranquillamente e non ti parte una scheda e ti partono 1000 euro come ridere ecco niente spero di esservi stato utile in questo piccolo video lungo che vi ho fatto vedere un pochettino come è il trattore e tutti i suoi particolarità comunque i comandi sono veramente basici sono veramente pochi comandi però essenziali niente dopo le fiat è tutto spero di esservi stato utile ci vediamo